Buonanotte a tutti dall'ex Giro d'Italia 102. Ancora una volta mi sono pregiato del record di essere l'ultimo a chiudere la sala stampa del Giro d'Italia. Come vedete non c'è più nessuno. Saluto a tutti, soprattutto agli quadoregni che da domani hanno in bacheca una maglia rosa del Giro d'Italia. Ciao e poi un appuntamento a Vicenzo Nivelli per quello che riguarda forse il Tour de France da correre per una caccia di tappe, non per la classifica, almeno al momento. Ciao a tutti da Bike News, Andrea Magnani, c'è qualcuno ma arriva dalla parte di sopra dove c'è ancora la redazione Gazzetta in piedi a lavorare fino a notte perché devono sfornare la rosea per domani, che storica. Ragazzi ciao, alla prossima.